E' un popolo civile, è un popolo sano, è un popolo serio. Invece degli addobbi, all'albero hanno peso i modelli F24 per il pagamento della Tares. Contro la tassa sui rifiuti, molti cittadini di Umbertide questa mattina sono scesi in piazza. Oggi siete in piazza, vero? Per tante cose. Prima di tutto perché ci sono queste tasse della Tares, ma poi non solo questa, perché poi è tutto un insieme, è un quacervo di tasse che dobbiamo pagare e che chiaramente non ci danno respiro. Quanto aumentato? 242 euro da anno stanno. Ore 12. Ci sono commercianti, pensionati, operai, il Movimento 5 Stelle e quello dei Forconi. Uniti per contestare l'ultima di una serie di tasse arrivate tutte a dicembre. Una vera bastonata di fine anno. Lei che lavoro fa? Metal meccanico, purtroppo. Con quel poco di stipendio, oltre che pagare l'Imu, la Mini-Imu, la Tares, la mazzata tutto il mese di dicembre. Noi quello che dobbiamo pagare lo paghiamo, quello che abbiamo pagato l'anno scorso va bene. Un centesimo di più non si impaga. Bravo! Queste persone, la Tares, non la pagheranno. Dovremmo portare i buzzi della spazzatura tutti qua. Ma lei lo pagherà? Io non la pago perché non ho i soldi per pagarlo, perché se pago il Tarso non devo far mangiare i miei figli. La folla si aggrega sotto il municipio. Umbertide è uno di quei comuni in cui la tassa sui rifiuti è aumentata. Ma vedi, oh, abbassata anche la tendina, per guarda meglio da sola. I toni si scaldano, si cercano risposte dall'amministrazione comunale. Alla fine scende il sindaco. Questa non è che la messa è il comune di Umberti. La Tares è né del comune di Umberti. La Tares è una tassa statale. E la Tares la mettono tanti comuni. Da Perugia, città di Castello, da Milano. E' tanto, e' tanto. No, no, no. Aspettate, aspettate. Avete pagato la metà perché l'anno scorso il calcolo era differente. Era fine, fine. Ore 13, ufficio postale. Poco lontano dalla piazza c'è chi fa anche un'ora di fila per pagare. Da domani, infatti, scatterà la mora. E' parecchio. E' aumentata? Certo, e qui 300 e un po'. C'era una protesta, lo sapevi? Lo so, in comune, sì, sì. Tu non hai aderito? Non è che non ho aderito, però tocca pagare. Che fai? Non paghi? E dopo raddoppia. Va bene. Ciao, grazie.